4-1, sinistra 1-2, sinistra 1-2, sinistra 2-2, sinistra 3-0, sinistra Allora vedi com'è fatto il veloce, il cappella rimane in corso, vedi con la fronte lì, si tira male, però si tira bene non ha il cappello di più, vedi qua che non prende canto, non è fermo, invece con la fronte il cappello si entra nel giro, si prende. Diffra, 3 quadro. Diffra, 3 quadro. Diffra, 3 quadro. Diffra, 3 quadro. Diffra, 2 quadro. 2 e 7 perché? 3 e 6 avanti capito 8 e 2 grazie sinistra 3 e 4 4 e 8 grazie 5 e 4 5 e 4 inizia 5 e 4 inizia 5 e 4 inizia cambio 5 e 4 inizia 5 e 4 inizia 5 e 4 cambio 6 e 5 13 e 6 5 e 4 inizia 5 e 4 inizia 5 e 4 inizia 5 e 4 inizia 5 e 4 5 e 4 inizia 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 5 e 4 6 e 4 inizia inizia 6 e 4 inizia 6 e 4 6 e 5 5 e 5 6 e 5 6 e 4 7 e 5 6 e 5 6 sceglie 7 e 5 bravo Yann 5 e 5 6 e 5 Grazie 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 Cambio 3-4 No Cambio 5-3 Bravo Edaya Cambio 8-10 6-3 Cambio 4-6 Cambio Cambio 7-4 11-8 1-8 2-8 1-8 5-6 6-6 6-7 9-8 9-8 9-8 6-8 11-8 9-9 10-8 7-9 Cambio, 5-8 No, deve essere, me l'ha preso, me l'ha preso Forca 6-8 Oh, bravi Buongiorno 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 Cambio 9-6 9-12 10-6 10-6 E come passa? Kliane Belletto 5-11 6-11 Alla 8-11 3-12 10-11 9-12 5-13 ciao ciao dai 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 8 12 ora ci stai eh siamo a tutti dentro oh eh non no ah no no ah 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 a niente bella bravo bravo 11-12 bravo 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 dina 14-9 bravo 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 Sì, 12 pari. Sì, 12 pari. Sì, 12 pari.